Ciao a tutti ragazzi con questa nuova puntata di Minecraft Ok allora ragazzi Prima sono morto come un ebet con un creeper E ho dovuto sistemare un attimo qua fuori Infatti vedete tutto l'inventario che è sballato Però non ho fatto niente di che Allora Voi ragazzi cosa dovete fare In questa puntata Un salto della fede Noi Ma di per se potrebbe essere utile cercare un po' di materiali Magari hai qualche consiglio da darci Sai cosa mi butto di qui morirò E E fai il cervo morto Il cervo morto sarebbe più Amore vai a prendere la roba Mi sono caduta sotto la casa di Dark Mi ho voluto fare la deficiente e ne ho pagato le conseguenze Su vai Esatto Costa 100 toscano Caduta Allora Su va a prendermi roba su E dove sei? Sono caduta dalla casa di Darkim dai Te l'ho appena detto Eh ma se ce l'hai lì davanti Ma no non è vero Non so dove sono morta Sei morta lì Davvero? C'è scritto? E non capisco dove Su vacci te che sei più vicino Vabbè io vado tanto a mio sistema Ecco noi magari ci facciamo il cervo secco che dovrebbe essere il divining rod lì Su vai Sono morto da quel lato lì Vai tu Non ho posto nell'inventario Non me ne frega Intanto vacci io poi ti raggiungo in qualche modo Allora Non lo so mi sono spiaccicata da qualche parte Potevi usare le scale per scendere? Mi sembra in alto sta casa Che non ti ha visto nessuno Quindi è stato utile proprio Non è meglio che non mi ha visto nessuno Oh come litigare Anche peggio nella vita reale Dove sono morta? Allora Sì quel punto lì Allora possiamo sfruttarti qualche oggetto senza rubarti nulla? Sì Non per rompere le scatole ma c'è uno dei tuoi alberi della gomma che ha preso fuoco Com'è ha preso fuoco? Non è che ha preso fuoco è saltato in aria c'è solo un pezzettino Ma dove? No non dei nostri No C'è un albero della gomma a mezz'alto poveraccio Eh vabbè Poverino A me si vedebbe un blocco normalissimo di albero normale che non ho Sì che ce l'abbiamo Non ce l'ho qui Mai E poi nella casa mia che ce n'è un po' Posso rubartene uno? Sì Ce n'è qua di blocchi Vediamo se Anche anzi Fammi sistemare Allora borsetta Una birce maledetta ti prendo Una birce No una Allora Un giorno ti sveglierai e sarai immerso nelle birce Le avevo piantate tutte io Allora il carbone Te lo metto uno mio così non ce la mettiamo Io c'ho un macerro non capisco più niente Ma anche noi eh Si facciamo una Com'è che si chiama quella cosa lì la transmutation table? Cosa serve? E' qua sopra E' qua sopra Si vabbè ma bisogna andare nel nether Voi avete fatto tipo un portale da qualche parte E' sotto Sotto casa Eh poi magari ci facciamo un salto Ci andiamo Vuoi fare la transmutation table? Dai l'obiettivo di stasera La transmutation table Dai Alziamo le gambe e andiamo Si si picchialo picchialo Frustalo Frustalo Grazie eh Allora Chissà quanto valide la transmutation table Pochissimo Avete soltanto una project table Come roba per fare tutto Eh non so se Luca l'ha fatta a casa sua Penso di si Allora qui ho fatto la covalescence dust Poi facciamo Quella azzura Che è questa No che è Nicolette Stavo pensando Secondo te se io L lo metto nella transmutation table Non succede niente Però almeno un pezzo di dirt Me lo darà Per me no Ecco Sono l'unico che vale zero L'unica cosa che vale zero Al massimo mi dà la flint Secondo me Guarda che la flint vale 4 Quindi è già un 2 Allora no 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 Che flint Ma come Non diciamo stai stupidaggi Vabbè ho fatto questa robetta Ti regalo un pezzo di dirt Che non ho spazio nei ventanti Io sto bruciando tutto Come non so cosa Eh C'hai il sacchettino Faremo bene andare Ecco anche noi vogliamo farci sacchettini Eh ma bisogna farci anche Senti Allora facciamo una cosa Andiamo a fare la transmutation table Rimpinghiamoci di diamanti E poi andiamo Andiamo a farci sacchetti Ok Ah vuoi fare troppe cose Su alza le gambe Andiamo Se no ti sigillo fuori C'è un alberello di gomma Qui fuori Se vuoi prenderlo È mio Sì è tuo No un alberello Del senso Da prendere Allora Quanto vuoi scommettere Che stanotte Dammi fuori No ma non ho più Dove è l'alberello Eh Dove è dove è Qui è qui Prendi tutto Piantalo Tom Ehi la Quanto vuoi scommettere Che stanotte Ti faccio dormire fuori Grazie Un terrazzo E io entro Che tanto si può distruggere tutto No Non è così la vita reale Allora Allora Anch'io diciamo Un terrazzo Sì sì Allora Uno di dieci Un terrazzo La La cosa blu La Quella Covalescence Di Quella roba lì blu La dust blu Come si fa Con il diamante E cos'altro C'è l'autocoso crafting Prova a guardare Ok Da un'occhiata Vediamo Si va giù nel nether Ma cosa ci vuoi fare nel nether A morire immagino No Vuoi andarci a prendere le cose Che ci serve Per fare la transmutation Eh Ok serve un carbone Che ci serve il carbone Per fare la transmutation Davvero No ci vuole la pietà filosofale Eh come si fa Ah come si fa la pietà filosofale Ah vuoi sapere troppe cose Sì Ho sete di sapere Serve un altro diamante Senti su andiamo giù intanto Una cosa per volta Tu vuoi fare troppe cose Uno o tre Ve ne ero uno se volete Di cosa Diamante No vabbè Troppo gentile No no Vieni vieni Sicuro Sì Vabbè Vuoi qualcosa in cambio In un altro momento Di cui Un'offerta Che non si possa rifiutare Non lo so Quando mi servirà Vi chiederò il pizzo Scusa Dove è il problema Ecco Grazie Verrà anche quello Allora Comunque servono ovviamente Troppi diamanti Per fare tutte queste cose Perché anche per fare Un quel La pietà ci vuole il diamante Fare quello ci vuole il diamante E lo Le chemical bag Il diamante Per il cervello Per farti un cervello Ci serve il diamante Grazie Grazie Allora Certo che questa È impervio Questo posto Allora Io vado Vado nel nether Tutto come non so cosa A morire Io vado nel nether Addio Vado a morire Sì Ora se ci vuole ritrovare Guarda quanti animaletti Che avete I maiali Abbiamo aiutato Anche noi A portarvene Quindi abbiamo La nostra Ecco È notte Quindi andiamo A prendere i portali Cioè Sì Andiamo a prendere i portali Dov'è? Bu Cosa vuoi? Tanti fastidio Dai Mi stai spostando in giro Ok Ok Tieni il diamantino Grazie Che quello è bello bellino Che non posso prendere Che non ho troppi oggetti Ti do un pezzo di dirt In campo E' però brucio Ok Grazie Sono i zombie Che insidono i miei maiali Allora Abbiamo un pezzo di questo Abbiamo fatto tutti Hanno dei gusti strani Di zombie Tu hai gusti strani Eh Allora Dove si potrebbe andare Per andare dentro il Per andare dove devo andare Dove devo andare Eh Cosa stai dicendo? L'avevi visto Totop E Pino la malafemmina? Sì sì Quando arrivano a Milano E fermano quel vigile E li fanno Ma per andare dove dobbiamo andare Dove dobbiamo andare Quello gli fa Se vuole andare in manicomio Mi ci porto io Sarebbe il posto giusto per Kiria No per te Ah Pensavo fossi Fossi tu Invece erano zombie Vabbè Ah Ce l'è questa cosa Di confondermi con gli zombie Tu eh Ma più o meno Stessa espressione amichevole La stessa Stessa modo di vestirsi Muoversi Grazie No Abbiamo uno zombie in casa Mi fa piacere Visto? Chiami gli zombie e vengono No per me perché sento il tuo richiamo Ah È ingiocabile vero Con lei eh No No Tanto ti da fastidio a te Eh effettivamente Eh se volessi andare nel portale Dove lo trovo Che mi sto girando un tondo Come una scema No Allora Fai una cosa Fammi un favore Prendimi Dove sei? Vieni qua Prendimi i diamanti Dammi i diamanti Tutti e cinque Dove sono? Dammi i diamanti Ce l'avrei tu da qualche parte E allora Grazie Tutti e cinque Ci avrete cinque diamanti Cosa ci vuoi fare? Come fai a sapere che abbiamo cinque diamanti? E l'hai appena detto? Davvero Sei proprio scemo Non mi sono mica accorto Sei proprio Rintronato Scusa Metti lì a quel marmo Ma non mi hai dati i diamanti? No Cosa ci vuoi fare? Mi servono Mi tenevo da parte per farmi un diadema Cosa ci vuoi fare? Ah Fastidiosa Ma no 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 eh Allora Eh Facciamo Allora Andiamo a farci una puntatina nel nether Sì E due ore che vuoi No Andiamo adesso nel nether Vuoi andarci subito Non rompere Siamo pochissimi Facciamoci una puntatina Andiamo ora D'altro Tu vuoi venire nel nether No Non c'ho niente da fare nel nether Che dovrai venire nel nether Ci vuoi morire nel nether No Sto sistemando tutte le mie cagatine qua Ecco Dai andiamo a crefare un po' Sumise Cioè A furia di bruciare roba C'ho 67.000 di energie Ecco Buono Andiamo a bruciare anche noi Ma non avete ancora fatto Quei collettori lì Sì Anche i raziatori Collettori E Direi che tutti quelli li dai Andiamo Oh Permetti alle persone Quando gli faccio una domanda Di rispondermi loro Per favore No ma il toscano Viene bene Quanto è spontaneo Se uno gli dice Dimmi con la vecchissima Maledetta strada La Coca-Cola con la annuncia Non viene bene Però l'hai detto bene adesso Sì vabbè ma esagera Quando ci fanno il verso Esagera dai Dai Vieni Dove tavolo sei? C'è Quello stanza lì È inutile G Vieni Vieni Dove? Dietro È sempre dietro Ma dietro qui Non nel muro Dietro qua? No Guardami Gira la testa Su Senso di avventamento Meno 150 Anzi Meno 67 mila Tipo la tua energia Guarda Ti lascerei senza pane Ora Ce l'ho Peccato Ma te lo requisisco Allora Andiamo giù Dove sei? Ah questo giù Sì Ci hanno detto Che hanno Possiamo sfruttarvi il portale Senza doverci fare Un'altra enorme Cosa di ossidiana Sì sì Vai tranquillo Grazie È un bel posto Dove l'ha creato il portale Nel nether È un posto orribile Eee No È vivibile Ok Avete trovato qualcuna Di quelle strane costruzioni? No Per ora no Ok Allora Facciamoci un punto Lo chiamiamo portale Se me lo facessi Iscriverci Spingermi dentro Grazie Con quella Scriverà zi Per farmi lavorare Di fendete appugnate In ogni momento Troppe cose Oddio No So che fosse Ma non è proprio un bel posto Non ci siamo portati Dietro il Guarda 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 se hai colpito No lui ha colpito Hai colpito uno zombie pigman No Io non ho colpito nessuno Cioè non ci posso credere Non ho colpito nessuno Siamo appena entrati Non ho colpito nessuno Ho fatto tutto da solo Ma se colpisce anche me Per me la mia roba Se potessi Se potessi lagga in un modo assurdo Non ho nemmeno cliccato io il tasto del mouse E non so come mai Cioè Vieni subito Ogni volta che andiamo nel portale Non posso venire subito Lei muore subito Non so dove tu stia Sua ce l'ha commesso secondo me Ho proprio che ce l'abbia commesso qua Se ce l'ha contato Faccio Allora Noi anche nella nostra serie normale Ogni volta Stiamo andando lì Ogni volta Le attacca Uno zombie pigman Stai attaccato No Stai attaccato Perché stai antipatica Stai attaccato Sì È cattivo Non gli piace in rosa Sì è rosa infatti Dai Difendimi dallo zombie Difendimi Ok ho preso la tua roba Grazie Attenzione C'è tutto delle mie Grazie Aiuto 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 C'erano anche con me Io non ti posso sopportare Io non posso sopportarti Sei una persona ingiocabile Senti Non so io Come bisogna fare qui C'è un solo modo Io mi buterò nella lava per te E tu prenderai le mie roba per me D'accordo? Sì Grazie Mi sembra un'ottima idea È un'ottima idea Va bene Finché nell'idea Sei tu che ti sacrifichi Mi piace Che cattiveria però Ma senti com'è cattivo Non che tu sia molto gentile Nei miei confronti Perché tu sei antipatica Non puoi sbagliare in strada ogni volta È sempre lì il portale Non si sta spostando Per cattiveria Dai Che pensare Magari sto antipatica pure a lui Eh Quello sì Dov'è il portale? No Due zombie addosso No Mi bastano quelli pigman Prendi la mia roba tu Ora capisco perché non ci fate entrare Va bene Ok Non ve lo chiediamo più D'accordo Ma porca troia Ma porca pigman Lo sai che noi per un po' Nella nostra serie abbiamo avuto anche Degli zombie pigman domestici Sì Ci sono spawnati lì davanti E ci spawnavano in casa ogni volta Vai Sacrificati E mi sacrificherò per te Grazie Mi butterò nella lava soltanto per salvarti Ecco Peccato non potresti buttare veramente di sotto Ma c'è il laghetto di lava Ora ti perderai sicuro Prendi la roba Allora io li distrago Tu corri Vai distrai Distrai Corri 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 Ti sto cercando di distrarmi tutti Sì distrai distrai Bravissima Io sto facendo una cosa intelligente Tipo? Una borsettina con un oggetto per tipo Sono andati i morti? Sono morti? Non lo so Che si usa molto semplice semplice Con la transmutation Ho capito Devo tornare Ma solo noi laga in modo così In modo esagerato Il nether Sì no laga tutti Ah ecco E' uno schifo Bugcraft Bugcraft In questo caso lagcraft No no E' uno schifo No veramente Poi se si è in 5 laga ancora di più Ecco Ma noi ci laga E' sempre figo Guardi un attimo Ma io non sono nel nether in questo momento Ah quindi Ah non è che sono i giocatori connessi Che peggiorano la situazione Sono quelli del nether Che la peggiorano Sì sì Ah Vabbè Allora vai da sola E lasciamo sta No io sto a fare la esca Tanto sono abitata a morire A minecraft E' una cosa A cui non hai Stiamo Stiamo Deturpando Le puntate Ad Arkham Non abbiamo ancora visto Testificate Io non sto capendo più niente Di quello che sto facendo Non mica solo te No ti giuro No Guardami 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 Ce n'è un altro Non riprenderemo più La nostra roba Sappilo Non l'hai spinti abbastanza No Diciamo che E' inutile Aspetta Andiamo insieme dai Tutto questo è inutile Perché Potremmo Potremmo anche Lasciargela Quella roba Dopotutto Detto cosa ce ne facciamo Di un piccone Noi Eh Peccato che sono Tanti picconi Tutti ottimi Cosa ce ne facciamo Di tanti picconi Tutti ottimi E delle spade E del cibo E delle tosse E delle pale E le asce Ma bevi di germogli Come fanno Gli animali erbivori Cosa cacchio state dicendo Non male amministrazione Colpisci mi anche Ma non so stata io Ma se io faccio una trollata Aspetta un attimo Dipende cosa vuoi fare Se io duplico Le uova Non ci può 16 uova Verrà fuori Un pulcino Si C'è una possibilità Su 8 Che ti venga un pulcino E quindi 16 Ci potrebbe stare Che un paio di pulcini Divengano Si E così Nel recinto Io vado a mettere I pulcini Sarebbe un'ottima idea Io ho ripreso la roba Però Sta laggando In un modo assurdo Mi sono andata a fuoco Quindi fai che Il mio sacrificio Non sia stato inutile Ci provo Un pulcino uscito E lino Un pulcino Dai un altro Ci sto provando Mamma mia come lagga Due Si Però E' molto bello Sapere che abbiamo Ricoperto la roba Ma non eravamo andati Nel level Con un obiettivo E direi che Noi proveremo Questo obiettivo Quando hai Ai zombie pigman E' passata la sbogna Grazie Ma non è che non gli passa Finché non li hai ammazzati tutti Vero? No Magari passa Ma lo sapete che Se non tirate su Se spaccate solo Le robe tipo glowstone Quelle cose lì E non gli elementi Che trovate per terra Non vi corrono dietro? Ah si? Buono Interessante Ma tanto tu li colpisci Non li ho colpiti Siete che sogni Piuttosto Posa un po' di roba Io provo a tornare in nether E vedo se ce l'hanno ancora con me Ok? Così se ce l'hanno ancora con me Cerco di bruciarli E poi andiamo a prendere La roba che ci serve Perché a me M'hanno bene divertito Sti cose Ecco mancano Gli zombie pigman cotti A sto punto Bistecche di zombie pigman Ma sono un po' putrefatte Danno un sacco di vita Però Ti avvelenano Anche un po' Come quelle norme E ti spunta una coda Arricciata sul di dietro Ma perché? Perché i maiali Ha una coda arricciata Ma perché io Ho consumato tutte le uova? Per farci i vicini Ma volevo duplicarli di nuovo Le usate tutte Ma e se abbiamo qualcosa Te lo presto Allora vediamo gli zombie pigman Dopotutto Per il diamante che ci hai dato Un uovo Anche due te li potremmo dare Sì sono ancora cavolati con me Sì ho capito Anche qualche Anche qualcosa Vabbè No sì vabbè Naturalmente Senti lascia stare i pinguini No ma li pinguini Ma ma ce la sto facendo L'ho già buttato una nella lava Ma non puoi fare la persona normale Per passare a cose più normali Voglio prendere la roba Per fare la craft La L'exchangement Ma Transmutation Cavolo lì e Senti facciamo così Che potevamo chiedere Le lemosina D'Arkim Che ce la Mi faceva 12.000 Con la transmutation Ce ne dava 4 pezzettini E dovevamo posto No Come hai detto Le lemosi Tampere di meno fortunati Vabbè ok ho capito E vado a morire un po' nel nere Dai È bello Tu morire nel nere Ti dà una sensazione Di aver concluso qualcosa di brutto Durante la giornata Sì Allora Noi Qual era più lo strumento Che serviva per distruggere I Quelli Quei Quei macchinari Senza perdere Senza perdere i macchinari La branch La branch Buono Quella di Bronzo Tipo Ah boh Provale tutte Cosa me spacchi tutto Sì C'ho già perso Un pezzo Infatti Quindi So cosa voglia dire Ok Facciamo finalmente Quello che volevo fare Da secolo Allora se ti interessa La zona è stata De zombie pigmanificata Allora cerca della Praticamente No Quelli ce l'hanno ancora con te E allora bravo Vai proprio da loro Bravissimo Volevo vedere se ce l'hanno ancora Laga così Però non mi fa neanche camminare Sì ma Continua a morire Comunque è invivibile Il nether Eh veramente Eh lo so Io voglio Transmutation Cavolo Fa schifo il nether Sì Anche pigman Far lo schifo Alla fine nel nether Una cosa interessante Era glowstone Chiederemo un po' Di glowstone A chi ce la può dare Scusami ma potremmo Senti io avevo un'idea Un po' cattiva da fare Andiamo ad appuntare Un table di Luke Per esempio Ma se non abbiamo Una glowstone Da fargli imparare Ce la può prestare Qualcuna La glowstone Ma forse Eh Guarda la ridiamo Però Mamma mia Guarda Guarda che condizioni Siamo ridendo Dai vado a fare le mosi Vado a cercare Di suicidarmi Di nuovo Più o meno Ho desboscato La zona Ora Ce ne sono rimasti Giusto un paio Imboscati Ma invece di Andargli A cercare Di vedere Ma che vado a cercare Vado a vedere Di buttarli nella lava Ma tu frega Ti cerca Della glowstone E prendi Un pezzettino E torna indietro Sì Perché hai ragione Si cammina bene Con 18 pigman Che ti rompono le scape Sì Stanno riuscendo Dalla lava Sti balordi Sai che non muo Nella lava Maledere Sì ho capito Ma almeno Ci stiano detto A fare il bagno Che puzzano Di rischifo Ma porca cotoletta Sì ma almeno Fatemi camminare Io sto litigando Con gli alberi Dalla gomma Quindi fai bene Ognuno Ha i suoi problemi E quando si trova A litigare Con gli alberi È sempre un po' Sì Eh Più che altro Che non rispondono Eh Meno male Che non rispondano Dove li ho messi Cosa Non ci posso Che Dove li ho messi Darky mi penso Li sta venendo da te Chiediti la carità Perché Perché volevo Un pezzettino Di glowstone Poi lo riportiamo Però Mamma mia Lo so che è imbarazzante Tutto questo Ma io cosa ci posso fare Io con l Ci ho litigato Da piccina Ecco Va bene Ah Vabbè io intanto Ho preso la gomma Ok Finamento Altri due pannelli Solari Mamma mia Voi avete dei macchinari Perché non ne ho visti No Se mi fanno un favore Mi porti Uno per tipo Di roba da mangiare Che hai La faccio imparare E mi faccio un po' di pappa Va bene Portagli La cosa buona Che mi serve Ok Allora Chi Ti porta qualcosa Da mangiare Vediamo che c'ho Da mangiare di tutti i tipi Vuoi? Sì Grano Cioè Che il grano Intendi? Eh non so Qualche pollo Qualche Non abbiamo niente Di carnivoro Qualche maiale Ci chiedi delle cose Che noi non abbiamo Ho finito L'ultima bistecca Se ne potrebbero Prendere delle altre Ma al momento L'abbiamo finita Proprio tutte Al massimo Ti posso portare Roba di Vegetariana Perché no Ammetto che io sono Contra All'ammazzare Gli animali Anche a minecraft Eh basta Che a me Dà qualcosa Vediamo che c'ho Allora Facciamo così Che stai facendo? Ehm Faccio riprodurre I maiali Ne prendo uno Sono una cattiveria E vabbè Almeno così Dobbiamo Un minimo Di ricompensa Bisogna la funfana Sacrifichiamo qualcuno Ma me lo facciamo subito Rinash Allora Se è cotto Ancora meglio Sì sì Allora Io sto facendo Un episodio A fare imparare la roba È sempre una buona idea A quanti minuti siamo? Eh A quanti minuti siamo? Ammetto che non ne Ho idea Per il semplice fatto Che abbiamo anche poi Da quello prima Tutto insieme Quindi non so Posso far schifo? Ok Ho fatto fare un po' di roba I maiali Mi sa che è meglio Chiudere qua Ok Allora poi Te lo porto In un'altra puntata Mh Ok Ho finito tutto il grano Buono Benissimo Allora grazie Adesso cerchiamo di Fare Da A portare la cosa A Darkim E ci becchiamo Nella prossima puntata Perfetto Ciao a tutti ragazzi Ciao Grazie Maica Maica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti